Carissimi, i più affettuosi e cordiali auguri di Buon Natale. Sono qui per dirvelo e dirlo a tutti, in maniera particolare alle persone che per Natale magari incontrano qualche momento di sofferenza. Proprio chiedo a Dio con forza che questa sofferenza scompaia, oppure che diventi con la presenza del Signore un momento di consolazione e di pace. Perché la cosa importante del Natale è una sola, Dio ti ama. Dio è con te, Dio ti comprende, Dio ti ama. Ti ama talmente da aver mandato sulla terra suo figlio a vivere insieme con te, ad aprirti il cuore, a darti la speranza. Poi in maniera particolare in quest'anno santo, dappertutto c'è come un momento di sosta, di pace. Bisogna fermarsi, bisogna lasciarsi voler bene e lasciarsi voler bene da Dio. E sentire che là dove viviamo, Dio vive con noi. Perché Dio si è fatto uomo, si è fatto carne, vive accanto all'uomo. E allora proprio aprire il cuore perché la consolazione, la gioia e la pace sia ogni momento con noi e che davvero il Natale sia un rinnovarsi nell'amore fraterno che è la presenza viva del Signore in mezzo a noi. Allora a tutti coloro che sono in ascolto in questo momento, vorrei proprio che tutti sentissero una gioia profonda, una pace profonda e sentissero questo momento di intimità sacra, tanto profondo nel proprio cuore. Ecco io vi auguro con tutto il cuore un Natale di gioia, di pace, di rinnovamento. Dio vi benedica tutti e sono in preghiera e vi sento tutti molto molto vicini e vi auguro proprio questa pace che il Signore ha portato a tutti gli uomini su tutta la terra. Questo malgrado le guerre, malgrado la povertà, magari le persone che attraversano il mare, che sono in pericolo, ma in tutti ci sia la speranza di una vita nuova, di una consolazione nuova che Cristo ha portata in terra per tutti, tutti gli uomini, nessun escluso. Non importa il colore della pelle, non importa il tipo di religione che viviamo, importa soltanto sentirsi amati, sentirsi scelti, perché Cristo si è fatto uomo e vive accanto a ciascuno di noi. Auguri infiniti a tutti coloro che celebrano il Natale e a tutti coloro che sentono la gioia e la pace del Figlio di Dio che viene accanto a ciascuno di noi, ci asciuga le lacrime, ci consola i dolori, ci dà pace, speranza e gioia. Auguri a tutti di un felice Natale.